Ancora un appello per salvare Villa Montesca, stavolta l'intervento è quello della CGL e dell'azienda sanitaria territoriale, che seguono con preoccupazione le voci sempre più insistenti sull'imminente chiusura del polo universitario Tifernate, nonostante le continue smentite ufficiali. Da CGL e Aslo 1 arriva un netto no ai tagli dei corsi universitari, quella che si vuol percorrere è invece la strada della mobilitazione istituzionale, per scongiurare la chiusura. Si chiede chiarezza sul futuro di Villa Montesca e l'impegno concreto delle istituzioni per intavolare un confronto partecipato anche dai soggetti locali, per cercare vie di uscita e soluzioni possibili. Così si legge nella nota del segretario provinciale Angelo Scatena e di quello della CGL Aslo 1 Gianfranco Tittarelli, che ripercorre la valenza formativa ed occupazionale dei corsi. Il corso in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e quello in scienze infermieristiche rappresentano nel contesto regionale due punti di eccellenza del sistema di formazione universitaria. Nello specifico, con l'attivazione a Città di Castello dell'unico corso di laurea a livello regionale in tecniche della prevenzione, risponde all'obiettivo del piano sanitario regionale, che vede nella prevenzione uno dei modi per garantire salute e sicurezza ai lavoratori e dalle popolazioni in generale. Anche il corso di laurea in scienze infermieristiche rappresenta nell'area dell'Alta Valle del Tevere un modello che annualmente è frequentato da oltre 300 studenti, dei quali oltre il 10% proveniente da fuori regione, costituendo così un oggettivo elemento di stimolo alla crescita economica e sociale dell'Alto Tevere. Per questo chiediamo con forza che si esca quanto prima da una situazione davvero paradossale, nella quale, per dinamiche ai più sconosciute, sembrano prendere forma decisioni serie e gravi e senza che sia dato sapere chi decide, con quali criteri e in quali sedi e soprattutto con quali finalità ed obiettivi.